Ho sempre allenato cercando di cogliere il volo all'occasione, è capitata e sono contento di aver fatto bene. È capitato anche a altri miei compagni in altre partite e hanno fatto altrettanto bene, quindi sarà dimostrazione che giochiamo un calcio che tutti noi possiamo praticare, quindi direi che quest'anno più di altre volte penso che chi della rosa fa parte, sono tutti i titolari. Hai mai pensato per un attimo in questo mercato di gennaio di lasciare Bari? Ma onestamente no, perché comunque se nel caso ci fosse stata la possibilità di certo l'allenatore me l'avrebbe detto come la società, quindi io sono arrivato qui praticamente quasi a parametro zero, quindi penso che se la società aveva intenzione di rimandarmi me l'avrebbe detto. Da parte mia no, perché sto bene, comunque sono riuscito a fare nel girone d'andata qualche partita facendo anche gol, quindi sapevo che prima o poi capitava l'occasione, spero ricapiti anche più avanti, però insomma io sono contento così. L'infortunio di Almirono riduce gli uomini in mezzo al campo, quanto ti piacerebbe tornare nel ruolo di regista in questo Bari? Mi piacerebbe perché in questo Bari dove si gioca molto bene mi piacerebbe provare in mezzo al campo, però insomma chi gioca in questo momento come prima sono ottimi giocatori, ovviamente l'allenatore sceglie, speriamo prima della fine capiti altrimenti comunque l'importante è come ho detto prima essere sempre pronti, anche nel ruolo che ho ricoperto fino adesso mi va anche bene così. Vari infallibili in casa, gioco punti, ma il rendimento cala drasticamente lontano dal San Nicola, cosa vi sta mancando? Ma il risultato è basta direi, perché comunque le prestazioni in alcune partite ci sono state, poi gli episodi magari non sono girati in nostro favore, la tensione, la stanchezza, una serie di cose insomma. In casa riusciamo a fare molto bene anche perché il pubblico ci dà una grossa mano, in trasferta alle volte subiamo un po' l'avversario che ci pressa più di quanto non lo faccia in casa, però credo sia normale, se in questo momento abbiamo 32 punti dobbiamo essere molto contenti di quello che stiamo facendo, cercheremo di fare sempre meglio e poi vedremo. Adesso c'è la trasferta di Bergamo, l'Atalanta è una squadra quasi all'ultima spiaggia, cosa ti aspetti? Mi aspetto un'Atalanta guerrita perché vorrà fare punti visto che se si vuole risollevare è il momento giusto, però affronta un Bari che è una squadra forte e quindi penso ci temono più loro, più di quanto non ne temiamo noi.